Roma, scavi fino a 85 metri per il prolungamento della metropolitana C. I lavori per il progetto da quasi 3 miliardi di euro, considerato uno dei più complicati al mondo nel suo genere, saranno probabilmente completati entro il 2034. Lo ha detto durante una visita giovedì al cantiere di Piazza Venezia l'ingegnere capo Andrea Sciotti. La linea della metropolitana è in cantiere da due decenni, ma è stata rallentata da ritardi burocratici e di finanziamento e dagli scavi archeologici necessari a causa delle rovine sotterranee e delle civiltà imperiali romane e medievali che si trovano sul suo percorso.